Ciao, tagliare i capelli in modo professionale è difficile e complesso. Con questi video ti dimostreremo come, avendo un metodo, il nostro, possiamo raggiungere ed avere obiettivi in un arco di tempo ristretto. Il nostro metodo si basa su tre punti fondamentali, la qualità delle informazioni e la raccolta dati, l'allenamento e la verifica. Ma di questo nei prossimi video faremo degli approfondimenti. Grazie! Grazie! Grazie per la visione!